Ancora dal Dofercolangio con uno degli ospiti sicuramente più attesi, più importanti di questa Riviera Interimensione. Non esagerare. No, abbastanza understatement, perché potevo dire anche qualcosa di più, dai. Di peggio? No, di peggio magari no. Con Paolo Ruffini che è tornato al Riviera Film Festival sul luogo del delitto. Sul luogo bella questa, sì, perché ho ammazzato una zanzara, lo ammetto, spero che gli animalisti non me ne vogliano e l'anno scorso è accaduto. Parlerei proprio di questo. Intanto facciamo salutare tutti i telespettatori, tutti gli amici di Primo Canale, che insomma ci tengo. Ci tengo molto, assolutamente sì. Io ho sentito parlare di Primo Canale, ne sento parlare tutti i giorni, per una collega che si chiama Silvia Mesturini. Conosci? Vagamente, diciamo che l'ho incontrata due o tre volte, non di più, due o tre volte. Uno dei molti più belli di Primo Canale, infatti credo che Primo Canale sia difficitario di questo. Assolutamente, però ci fa piacere che Nuocio è vicino a te. Nuocio è vicino a me, perché lavora in vera film adesso e questa cosa è sintomatica del fatto che c'è un po' di Liguria anche vicino a me. Oltre averci la mamma spezzina, adesso c'è anche una collaboratrice genovese. E che poi tutto sommato Primo Canale è un buon punto di partenza. Buono, ma caspita. Era indecisa, lei mi ricordo, la conoscevo prima che venisse, e disse che mi hanno fatto una proposta, la BBC e il Primo Canale. E lei ha detto Primo Canale perché lì posso crescere. Esatto, solo perché era più lungo, da dire anche, perché il BBC erano tre letti. Bene, ora dopo che abbiamo parlato molto, vedo che stavo molto sul pezzo. Esatto, quanta strada da Ovo Soda è passata, 1997, Ruffini. Tanta strada. E cosa è successo in questo tempo? Beh, anni e anni di panza classica, come vedete, e poi tanto cinema, abbiamo visto tanti film, abbiamo fatto tante cose, ci siamo divertiti tanto, però quell'odore, così, anche un po' di cacciucco, quel sapore di salmastro, quel libeccio che conoscete anche voi, non passa, insomma, perché alla fine poi la nostra natura è quella, è quella di essere... Sai, con Genova di Vorno c'è anche questo vantaggio del porto, no? Io sono convinto che, insomma, le città di porto, non solo le città di mare, le città di porto in particolare, anche Napoli, cioè, quando tu c'è un porto davanti, hai la sensazione che se dici una cazzata, vola, diventa lirica, capito? Invece quando sei magari in città, anche quando sei a Milano, è una città bellissima, ma quando dici una cazzata c'è un palazzo davanti e ti rimbalza addosso. Questa cosa è sintomatica, questo è il vantaggio... Ti dà una maggiore libertà, eh? Di vivere, beh, non solo, ma anche proprio, la vogliamo chiamare, ovviamente non politicamente parlando, ma filosoficamente parlando anarchia. Cioè, l'anarchia della creatività, cioè il pensare, il sognare quello che caspita ti pare, che è una cosa che oggi è complicatissima e non si fa. Ma in alcune città, in alcuni luoghi, in luoghi dove la cultura è importante, anche pensa a livello comico. La scuola genovese è una scuola importantissima, questa libertà creativa c'è. Bene, ci fa piacere che tu dica queste cose, perché il genovese, come qualcuno forse ti avrà detto, è una persona un po' chiusa, un po'... Io amo tantissimo la... Un po' restito. Io per esempio, secondo me, Gilberto Govi, cioè è un personale, è un attore che dovrebbe essere assolutamente rivalutato, studiato e amato in maniera molto più assidua, ma in tutta Italia. Cioè Genova c'ha... ma come sono me li voli... ma come tante davvero... cioè bisogna ritornare ad accumulare le città di Porto. Ti lancio, Dario, quest'idea. Facciamo un Porto Film Festival e lo facciamo nei maggiori porti italiani. Penso è figata. Che bello. Io mi candido per seguirlo. Ma davvero, penso è bello, si fa Taranto, Napoli, Palermo, penso che meraviglia sarebbe fare una cosa itinerante in tutta Italia, ce l'andiamo noi, andiamo a mangiare dappertutto, ingrassiamo 35 kg, problemi di colesterolo, glicemia a manetta... Non credo di averne bisogno di ingrassare 35 kg, vado bene già come sono che sono... Ti è piaciuta la citazione di Govi, no? No, come sì. No, certo, mi è piaciuta e tra l'altro mi fa piacere da genovese che ci sia un grande attore come Tuglio Solelli che lo ha ripreso e lo sta portando in giro con i maneggi per tutta Italia. Quello che doveva essere una... qualche cosa di limitato a Genova e a Liguria adesso partirà per una torna in tutta Italia. Però vedo che sempre stiamo molto sul pezzo. Sì, no, infatti... Stiamo molto... ormai è finita l'intervista. Esatto, ma infatti volevo portarti invece sul motivo per cui parlo fino a di là di tutto. Che sono i muscoli. Perché alla spezia, alle cozze si chiamano muscoli? Parliamo di questa cosa. Non si può parlare di cinema. Cioè, perché? Perché la mia mamma dice ti ho fatto i muscoli? O se no, un'altra cosa che c'è alla spezia, il grillo. Questo elemento, questo ciclo motoro, questo... no, rappresenta dove c'è il grillo. Il grillo. Gli amici spezzini lo sapranno. Voi non sapete dove c'è il grillo. All'erici c'è. Il nostro direttore è spezzino, forse lui lo saprà. Chiamalo. No, il grillo. Stiamo un po' di piano. Il grillo non è una bicicletta. È una sorta di osa che te ti metti a sedere e fai così. Te lo giuro. E vai. Quando vi ricordo, da piccino li portavo nei giardini, alla spezia, e andavo sul grillo. Ora vedi che anche Andrea si ricorda. Ma vede che stiamo sul pezzo. Questa è un'intervista all'interno di un festival cinematografico dove non siamo riusciti ancora a parlare di cinema. Io vorrei, visto che non... Visto che tra poco piove anche. No. Perché tu sei... È una delle interviste più belle che abbia mai fatto, Tadio. Ti ringrazio. Ma ti volevo chiedere... Però poi perché non ti ho chiesto niente di cinema? Ma dopo tanti anni ancora trovi divertimento? Questa è una bella domanda che tu vuoi fare. Va a fare interviste? Dipende dalle persone. Con che intervisto. Con te mi sto divertendo molto. Vedi, ma io lo faccio apposta per farti amare di più il tuo lavoro. Comunque, vabbè. Una grandina. Adesso diciamo che... Adesso vediamo di concludere parlando di cinema. Dai, dai. Due minuti. Due minuti. No, più che altro del tuo cinema. Perché sei venuto qui in realtà per... Rido perché ti ama, ma poi esce un altro film, il ragazzaccio. Il ragazzaccio è già uscito. Ah, è già uscito. È su Sky adesso. Ah. È meglio parlare di cozze. Parliamo di muscoli, dai. Parliamo di... No, però perché... No, il ragazzaccio è in scena. Io adesso... È già su Sky. No, sono venuto qui a Riviera Film Festival, la pare di Rido perché ti amo, che esce il 6 luglio al cinema. In questa estate italiana di grande riavvicinamento da parte del pubblico al cinema anche d'estate, speriamo. Esce tra Indiana Jones 5 e Mission Impossible 18. Io invece ho fatto Rido perché ti amo uno. Questo è una cosa... Però questo non vuol dire che non possa essere ce n'è uno, 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 uno. Sì, ma infatti farò una serie, adesso vanno in moda le serie. Ho già fatto Rido perché ti amo la serie. Ma il passaggio dall'essere attore al diventare regista, come è stato? Il passaggio... Io ho fatto dieci anni fa il mio primo film che è una fuga di cervelli e questo ormai mi fa essere un regista, un veterano, un regista, sei tipo Polanski, Coppola, mi sento un po' come Martin Scortese, non so se lo conosci, è un regista bravissimo ma che va via sempre senza pagare. Mi sento un po' anche... Mi sento un po' spielberg, sai, quel regista che spiega tutte le cose. Mi sento un po' così. No, a parte di scherzi. Ho fatto il regista dieci anni fa. Questa è una commedia romantica che si chiama Rido perché ti amo e che è una commedia a cui io voglio tanto bene perché l'ho scritta insieme a Francesca Massaro e Nicola Nocella ed è una commedia che parte da un assunto importante che all'inizio del film c'è scritto bisogna vedere se il bambino che eri è orgoglioso dell'adulto che sei diventato. Una bellissima frase dentro The Saint-Exupéry parla di un bambino che si innamora perdutamente di una bambina, a sei anni gli promette di sposarla e questa promessa viene inserita dentro un quaderno. Dentro questo quaderno lui mette una fede e lui dice che il giorno di San Valentino per il suo quarantesimo compleanno riuscirà a sposare questa bambina. Stacco, siamo nel presente, davanti a un prete, alle prove di quel matrimonio. Solo che quel bambino è diventato uno chef anche un po' sbruffone, smargiasso, un po' superficiale, quella bambina è diventata una donna dolcissima che sogna di fare la coreografa. Per un motivo litigano e lui a un certo punto si accorge di aver perso il grande amore proprio per colpa di questa sua incapacità di accorgersi dell'occasione che stava avendo mantenendo quella promessa. Perde il suo amore la settimana proprio prima di sposarsi e lui si accorge che l'unico modo che ha per riconquistare la sua ragazza, l'unico modo che ha per riconquistare il suo amore è mantenere tutte le promesse che le aveva fatto quando aveva sei anni. E quindi ogni promessa è un quadro del film e sono promesse che evidentemente fa un bambino. È un film che parla d'amore. Intorno a questa storia c'è un coro, un coro che svolge il film in un ipotetico interlande milanese, una piazza, piazza Carlo Pedersoli si chiama, che è un grande omaggio a Bud Spencer. Ed è un film a cui voglio molto bene perché è proprio un film che parla d'amore, di purezza, di verità e di quello che è il nostro bambino interiore. Io penso che più che alle nostre coscienze dovremmo rendere conto a quel bambino che a quattro anni giocava e che è dentro di noi ma che a volte viene soffocato dal nostro orgoglio. Molto bello quello che hai detto, non vorrei rompere questo momento, però ti chiedo l'ultima cosa, volevo chiederti come è il Paolo Ruffini regista nei confronti del Paolo Ruffini attore. Non è molto indulgente, infatti molto spesso l'ultimo film che ho fatto, ragazzaccio, io ho fatto la regia ma non ho fatto l'attore. Quando ci sono degli attori più bravi di me che sanno fare le cose meglio di me, le preferisco. Nel film c'è Massimo Ghini, Beppe Fiorello, Sabrina Impacciatore, degli attori straordinari che per me è stato molto più lusinghiero dirigerli piuttosto che interpretare il film. Questo è perché non provo invidia, non è un sentimento per fortuna che mi appartiene, anzi provo stima e mi piace quando io giro un faro e lo butto su qualcuno che ha un valore, il fatto di averlo illuminato mi dà comunque grande lucentezza anche a me. Vivo molto spesso di riflesso. Grazie, grazie per il loro film. Grazie a te, ma è già finito. Ma dovevamo parlare di un sacco di cose. Eh lo so, lo so, potevamo parlare di tante cose, ma il tempo è tirante. Uso una frase che non ha detto mai nessuno, il tempo è tirante. Ma invitatemi a primo canale una volta. Quando vuoi. Ma veramente? Quando vuoi. Allora quando venga a Genova, venga. Assolutamente, assolutamente. No, ma non chiederebbe altro. A te Silvia. Ciao Silvia. Grazie. Grazie.